Ragazzi, buona domenica a tutti, buona giornata a tutti, allora aspettando l'ufficialità di Douglas Lewis che speriamo a sto punto arrivi in giornata perché i giornalisti non ci stanno capendo veramente un cazzo, ho detto. Allora, 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 innanzitutto mettete in piace al video come sempre, prima cosa da fare per supportare gratuitamente il canale, mettete mi piace al video. Dopo aver messo in piace al video, parliamo un attimo di questa cosa qui. Allora, leggiamo, leggiamo cosa ha detto. Leggiamo cosa ha detto il signore, il signore in questione, il signore in questione. Allora, Claudio Marchisio, tralasciando le stronzate che dice a livello sociale, tra virgolette, il politicamente corretto che, diciamo, espone, ok, proprio completamente il contrario di quello che penso io, al di là di questo che dovrebbe limitarsi a parlare di calcio. Ma anche quando parla di calcio e di tifo e lui che è nato e cresciuto a Torino, è ancora più grave la cosa. Perché significa che tu frequentavi solo il campo, la contina, solo Vinovo, quello che era, ok, e non frequentavi le scuole, i posti di lavoro, non frequentavi niente di Torino, niente di niente, ma anche un bar. Perché Claudio Marchisio ha detto Torino, una città dal cuore grande, ma non così caloroso come quello di Roma. Ci vuole tempo. I tifosi del Torino sono l'anima della città. Il tifoso della Juventus non è che non si trova tanto, ma Torino è proprio del Toro. Quando c'è il derby della Mole, sono loro l'anima del derby, che lo fanno tenere sempre attivo. Mentre il tifoso della Juve è un po' sparso ovunque. Siamo ovunque, ma non abbiamo il nostro nucleo principale. Allora, che lo Juventino, il tifoso Gobbo, sia ovunque in giro per l'Italia e non solo, siamo tutti d'accordo. Ma la frase che è grave, a livello di tifo, a livello proprio Gobbo, che il derby è animato grazie ai tifosi del Toro, questo te lo potrei tranquillamente risparmiare, è uno che dice una roba del genere, per me non può essere considerato tifoso Gobbo. Puoi aver giocato una vita da noi, puoi aver detto di essere tifoso, ma per me non sarai mai sullo stesso livello nostro. Perché io non sono di Torino, io sono della provincia di Venezia, ma se sento il derby di Torino, lo devo grazie ai tifosi Gobbi che abitano Torino. Perché senza di loro non sentirei il derby io, non lo sentirei minimamente il derby, come sento magari, comunque non è ai livelli, per come la vedo io, per quanto mi riguarda, perché non vivo la città di Torino, non è ai livelli di quello che sento magari con l'Inter, ok? Perché sento più magari la partita con l'Inter che con il Torino. Ma chi vive a Torino, non puoi dire che il clima derby è, insomma, incrementato grazie ai tifosi del Torino. Perché è vero che poi noi veniamo da tutta l'Italia e quando c'è il derby il corteo è fatto da tifosi di tutta l'Italia. Per carità è vero, ma il clima che si respira nel giorno del derby in città parlo, non da parte di chi arriva dal di fuori di Torino, anche dalla parte dei tifosi Gobbi che vivono a Torino. E ripeto, bisognerebbe parlare con amici, familiari o conoscenti che vivono a Torino e che sentono il derby e che lo vivono il derby tutta la settimana prima che arriva il derby, ok? Probabilmente se la stronzata qui non l'avresti mai detta. Perché è una stronzata e chi gli dà ragione? Perché poi abbiamo dei tifosi Gobbi di merda, perché purtroppo sotto questo aspetto qua siamo una tifoseria di merda purtroppo, ok? Che gli danno ragione semplicemente perché si chiama Claudio Marchisio. Ma adesso, l'avesse detto un buongiorno, ok? Il giocatore del Torino, un giocatore del Torino, l'avesse detto questa cosa qui. Voi l'avreste massacrato, perché siete ipocriti, siete ipocriti. Perché lo dice Marchisio, ok? Allora, ma l'avesse detto anche Del Piero, una stronzata del genere, io avrei detto le stesse cose. Punto. Ma siccome Del Piero sa benissimo, non dice mai, non direbbe mai una stronzata del genere. Sa benissimo cos'è il derby. E non direbbe mai una stronzata del genere. Punto. Del Piero. Che non è di Torino lui. È qui del Veneto. Però, probabilmente, capisce benissimo, meglio di Marchisio, cos'è il derby di Torino. Probabilmente. Perché questa è la verità. Semplicemente perché si chiama Claudio Marchisio, dei gobbi dicono, eh ma ha detto semplicemente la verità. La verità è di cosa? La verità è di non sapere cos'è il derby. Perché chi gli dà ragione, di fatto, è gente che non vive a Torino. Ma se voi andate a vedere le classi, i posti di lavoro, cioè non è che abbiamo 80% tifosi del Toro e 20% tifosi del Juventus. Anzi, anzi, ci sono molti più tifosi della Juventus rispetto a quelli del Torino. O comunque siamo lì. Come è un derby? Come dovrebbe essere un derby? È normale che poi la maggior parte vengono dal di fuori. Ma dire che il derby è animato grazie ai tifosi del Toro, questa è una grande stronzata. È una grande stronzata che non rispetta i tuoi, quelli che dici, di avere i tuoi tifosi della Juventus. Io, ragazzi, di Marchisio non mi stupisco più perché ogni volta che parla dice stronzate. Però, purtroppo, perché si chiama Claudio Marchisio, il principino, è cresciuto. Io vi dico che senza la Serie B Marchisio non sarebbe mai venuto fuori. Perché senza la Serie B, e l'ha detto pure lui, ha ringraziato la Serie B, il grande Juventino Marchisio. Ha ringraziato la Serie B perché grazie alla Serie B sono venuto fuori. Perché senza la Serie B lui aveva davanti Everson, virà e probabilmente sarebbe venuto anche Gerard. Dove cazzo avrebbe visto il campo lui con la Juventus? Dove? Dai. Se abbia andato a una squadra odiata dai tifosi della Juventus, probabilmente si trova bene a Fiorentina, o squadre del genere. Ma la Juventus non avrebbe mai fatto quello che... Perché poi non è che era sto gran fenomeno, Marchisio, eh. Era un giocatore normalissimo. Che veniva valorizzato, poi, tra l'altro, qualche giocata ce l'aveva. Ma è stato valorizzato nel 2015 da chi aveva torno. Da Pirlo, da Vidal, da Pogba. Perché senza questi tre, Marchisio, ciao. Se dobbiamo parlare proprio anche a livello tecnico. Per favore. E questo qua parla anche di Juventinità adesso. Parla del derby, parla del tifo. Ma per favore. Forza. Questo era una parentesi su Claudio Marchisio, che a me non è mai piaciuto. Non ha mai fatto impazzire a livello... Né da giocatore, quindi né a livello tecnico, né a livello tattico. Sicuramente aveva dei tempi di inserimento buoni. Questo sicuramente gli aveva dato atto, come ce ne hanno tanti altri normalissimi giocatori. E non mi è mai piaciuto come personaggio sportivo. E personaggio juventino, Claudio Marchisio. E non solo sportivo. Ma quelle sono altre cose. Quindi, vabbè. Ragazzi, ditemi la vostra. Sempre tranquillamente. Sotto nei commenti. So che questo video qua non piacerà a tanti. Perché Marchisio vuole toccare il principino. Vabbè, diciamo stare. Il principino. Ragazzi, il principino. Ragazzi, dai. Su. Dai. Che senza... Veramente lui senza la B. Non so cosa sarebbe stato. Ma anche altri giocatori. Attenzione. Perché poi... Abbiamo... Cioè, abbiamo. Avete esaltato tanto Chiellini. Ma Chiellini è uscito... È un altro giocatore che è uscito grazie alla B. Perché senza la B. Con lo squadrone che si stava creando. Non so. Di fatto... Si avrebbe visto il campo. Da titolare, quantomeno Chiellini. Perché comunque avevi Cannavaro. Avevi Tioram. Probabilmente avresti preso un altro difensore. Alla Sergio Ramos. Una volta andato via Cannavaro. Quindi comunque... Insomma, non è che... Poi Chiellini è venuto fuori come Bonunci. Perché il calcio mondiale. Ma soprattutto quello italiano. È andato... A ribasso. E si vedeva anche dalla Nazionale. Si è visto anche dalla Nazionale. Lasciando stare quello che è successo ieri. Io sono contento che l'Italia sia uscita. Per colpa anche di quelli... Che la esaltano sempre. Basta una vittoria casuale. All'Europeo. Dove meritavi di uscire già con l'Austria. Per dire... Hai visto? Noi siamo livello. E l'Inghilterra. Cos'è l'Inghilterra che non ha vinto? Allora ragazzi. Il movimento calcistico di un paese non si guarda dalle nazionali. Lo si guarda anche dai giocatori stranieri che hai in quel campionato là. E lo si guarda da quello che ottengono a livello non solo di risultati ma di strutture, di prestazioni e tante altre cose. Lo si guarda, il movimento calcistico di un paese, dai club non dalle nazionali. Le nazionali sono un mese ed è un caso particolare. Lo si guarda dall'andamento che hanno le squadre di club in giro per l'Europa. E non solo nel proprio paese. Punto. Va bene, detto questo, buona giornata a tutti, buona domenica a tutti. Aspettando l'ufficialità ovviamente di Douglas Luiz che comunque pian piano ieri hanno fatto il post con Douglas Costa. E con Douglas Costa oggi hanno fatto il post con Danilo Luiz. Quindi si stanno un po' divertendo. Io stringerei e arriverei al comunicato ufficiale. Ma vabbè. Buona giornata a tutti, buona domenica a tutti. Sempre comunque fino alla fine Forza Juventus. Sempre comunque fino alla fine Forza Juventus da parte i gobbi veri. Io quando vi dico non mettete mai allo stesso livello nostro di noi tifosi i giocatori o ex tali. Perché lo possono dire di essere stati juventini? Ma anche Conte. Io vi ci metto anche Del Piero che io amavo Del Piero. Ok? Ma a livello di tifoso io non metto nessun ex giocatore o giocatore. Perché? Per un semplice motivo. Perché noi non abbiamo guadagnato nulla. Rispetto a loro ovviamente. Perché poi facciamo questo lavoro qua, qualcosina si guadagna. Ma non sicuramente sulle spalle del tifo. A parte qualcuno. Tutto lì. Noi viviamo con passione questa cosa qui. Noi al di là di tutto. Al di là della partita che abbiamo avuto in questi tre anni con Allegri e per carità. Ma al di là di tutto noi ci siamo sempre stati. E noi non ci comprerà nessuno. Parlo a livello di tifoso. Ovviamente poi se arriva un Inter e ti offre... Ma io ragazzi là non giudico. Attenzione non giudico. Cioè Conte che è andato all'Inter. Per me non è che non è Juventino perché è andato all'Inter. Oh. È professione. Io vi ho sempre detto è professione. È lavoro. Sono stato d'accordo con Conte. Quando ho detto quelle robe da allenatore a Juventus. Non mi sono mai trovato così d'accordo con lui. Perché è stato poco ipocrita. E di Conte. Una cosa... Anche se a volte è stato incoerente. Una cosa che gli ha dato atto è che... Dice quello che pensa. In un mondo di ipocriti. Ok. Quindi sotto questo aspetto qua. Chapeau a Conte. Però quando arrivi a fare il professionista a quei livelli là. Per me... Qua c'è il lavoro. E la passione... Cioè il lavoro e la professione. Scusate. È sotto. Cioè magari il tifo che magari diventa simpatia. E magari il tifo che un giocatore può fare per una squadra. Faccio un esempio. Alvaro Morata che a me piace. Lo fa perché si è trovato bene in un ambiente di lavoro. E lo faccio anche contro i miei interessi. Perché Morata... Molti dicono è Juventino vero. Per me no. Per me. Lui simpatizza la Juventus. Perché si è trovato molto bene alla Juventus a livello lavorativo. Non può essere tifoso della Juventus ragazzi. Non può essere. Cioè diventa tifoso della Juventus nel 2014. All'età di 20 anni e poco più. Ragazzi ma di che cazzo parliamo? Poi per carità del Piero lo è sempre stato tifoso. Anche Marchisio dice di esserlo sempre stato. Poi però bisogna anche dimostrarlo. Bisogna anche dimostrarlo. Allora del Piero sotto quell'aspetto là. Perché Marchisio... Vabbè in B c'è rimasto perché non era ancora nessuno. Però del Piero sotto quell'aspetto là una dimostrazione d'amore. Rimanendo in B come Buffon l'ha data, l'ha fatta. E non ha parole. Però comunque non metto giocatori o ex tali a livello nostro. Non li metto. Tutto lì. Perché secondo me il tifoso è quello che nel bene o nel male soffre e gioisce. Ma non ci guadagna un cazzo rispetto a loro. Perché anche lo stesso del Piero. Faccio un esempio. Quando perdeva. Ci rimaneva male magari da tifoso anche. Però comunque i suoi 4 milioni di euro l'anno in banca ce li aveva. Ok? Giusto per dirvi. Quindi sotto questo aspetto qua. E non è un discorso prettamente economico, commerciale o populista. Però sta di fatto che il tifoso vero e proprio è quello che di fatto secondo me non guadagna quello che prende l'oro e ti fa a prescindere, no? E poi le critiche vanno fatte, vanno mosse sicuramente. Gli elogi vanno fatti. Assolutamente. Poi siccome io parlo di giocatori perché poi anche ci sono giornalisti che sono tifosi e per me loro sono tifosi perché comunque non prendono quelle cifre là. Anzi, se si sbaglia qualcosa a questo livello qua si rischia comunque di avere delle situazioni compromettenti sotto questo aspetto. Anche per quello che facciamo noi. Basta sbagliare un qualcosina per rovinarsi sotto questo aspetto. Come a livello giornalistico. Se sbagli troppo perdi lavoro. A quei livelli lassi magari lo perdi però alla fine i 4 milioni di euro l'anno che hai preso ti bastano per tutta la vita. Quindi se sei bravo a gestirli. Quindi io poi del Piero ragazzi a livello, se devo parlare a livello di calciatori lo metto qua. Cioè come tifoso della Juventus sicuramente è quello più tifoso degli ex calciatori, calciatori e quello che volete. Però io un giocatore, solo uno, lo metto a livello nostro che purtroppo ha perso la vita per questi colori ed è Gaetano Scirea. È l'unico. Purtroppo non ho visto giocare. Ma è l'unico. Tutto lì. Gli altri magari anche solo un pizzico ma sotto di noi. Perché secondo me l'importanza della Juventus e di questi colori qua è il tifoso vero Gobbo. È viscerale. Che non ha peli sulla lingua. Che dice quello che pensa. Che tifa. Ok? A suo modo perché ognuno di noi tifa a suo modo. Non c'è un modo superandi giusto per tifare. Ognuno tifa come cazzo vuole. Però tifa. E non fa gli interessi dei tesserati. Non difende a prescindere un tesserato. O lo attacca a prescindere. Tutto lì. A meno che appunto non ci sia un dato di fatto che un tesserato fatto più male che bene ha una tifosaria. Come è successo con Allegri. Come è successo con Andragnelli. A un certo punto. Va bene ragazzi. Buona domenica a tutti. E niente. Io spero che Marchisio faccia un passo indietro su quello che ha detto. Perché allora su alcune cose posso essere d'accordo. Sul fatto che la tifosaria Juventina a differenza di quella Granata sia sparsa in giro per il mondo. E va bene. Ma non puoi dire che il derby è vivacizzato grazie ai Granata. Se gli hai dato proprio un assist che questi qua ci prenderanno per il culo per tutta la vita adesso. E questo deve essere tifosi Gobbi? Vabbè. Ciao a tutti.